Ciao a tutti! Allora, in questo video non vi mostrerò nessun tutorial, nessun outfit o vlog o quant'altro. Questo è semplicemente un video per salutarvi perché mi sembrava giusto farlo. Non farò più video il venerdì, in questo momento a dire il vero è già un po' di tempo, non ho più l'entusiasmo che avevo una volta e sinceramente non sono neanche dell'umore adatto. Sono successe alcune cose nella mia vita che in questo momento devo risolvere. Questo non è un addio, continuerò comunque a pubblicare i video che riguardano la rubrica, questo vale anche per il venerdì perché appunto questi video sono già stati registrati in precedenza. Io vi abbraccio tutti quanti e vi auguro una serena e bellissima estate. Spero di rivedervi presto, ciao!